L'abbiamo sentito per giorni da mercoledì sera, dopo la partita contro la Danimarca, che la Coppa sarebbe rimasta ritornata a casa a Londra. Mi spiace per loro ma stasera prende un bel aereo e viaggia verso Roma e domani ci godremo il popolo italiano. E questo premio se lo devono godere gli italiani in giro per il mondo e tutti gli italiani che vivono in Italia, all'estero, è per loro e per noi. L'avevamo detto sin dall'inizio, ci credevamo, per noi e per loro. E stasera è giusto che gli italiani festeggino da ogni parte del mondo.